Le volte che sono andato a Frossinone abbiamo sempre cercato con le squadre in cui ho giocato soprattutto di proporre il gioco. Penso che sarà molto importante questo, non lasciarli giocare, anche se comunque siamo una squadra che lascia giocare vedendo anche la qualità dell'altra squadra, quindi bisogna fare attenzione anche su questo. L'importante è di proporre il gioco fin dall'inizio e di cercare di concludere la gara il più presto possibile. L'ambiente della squadra del Torino in questo momento è molto intenso, molto attaccato, poi non è nemmeno facile sinceramente accettare la B sapendo che il Toro è una piazza da Serie A, però speriamo di risalire il più presto possibile, così il Toro farà vedere quello che è veramente. Il mister è uno che lavora bene, è simpatico, uno che parla, uno con cui si può dialogare, è uno che cerca anche di tenere molto concentrato dal gruppo e ci dà entusiasmo, cosa che è molto importante per noi calciatori e entusiasmo dentro la squadra. Spero di mettere sempre in difficoltà al mister per potermi insomma mettere a mia disposizione nei primi undici. Anche se non mi toccherà entrare fin dall'inizio, cercherò comunque di dare il mio contributo se mi toccherà entrare. Sì, questa sarà sicuramente la più delicata, visto che non puoi permetterti nemmeno di pareggiare, ecco. Quindi dobbiamo mentalizzarsi in vincere contro il Frosinone, sperando solamente noi stessi e non degli altri risultati.